Tasse e supertasse. Così si è aperto il 2012 per gli italiani, tasse che interessano proprio tutti e la nostra isola non ne è esente. Fra le tante che si abbatteranno sui contribuenti, le tasse sui cosiddetti beni di lusso, barche e auto per lo più. C'è la tassa di stazionamento per le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10 metri e un aggravio sulla tassa automobilistica con un addizionale per le auto più potenti, quelle superiore ai 180 kilowatt. Ma il prossimo 8 febbraio sarebbe in discussione presso la conferenza Stato-Regioni un'altra possibile tassazione che coinvolgerebbe il settore sanitario. Un nuovo ticket proposto dalle regioni al governo su protesi, pannoloni e altre attrezzature di uso comune e persino sugli alimenti senza glutine con la conseguenza che a pagare sarebbero invalidi malati per insufficienza renale, diabetici e celiaci. Ma cosa ne pensano gli albani di tutto questo? Il suo giudizio su queste nuove tasse che sembrerebbero arrivare dal governo Monti sui beni considerati di lusso? Qualcuno parla anche delle protesi sanitarie, alcuni tipi di protesi, che cosa ne pensa? Niente, non ho parole. Siano opportune e quindi per me vanno benissimo. Credo che quello che paghiamo è già abbastanza, chi lo paga, io sono uno di quelli che le paga le tasse, però insomma tassare le protesi sanitarie mi sembra abbastanza fuori luogo. Penso che le tasse sono un po' maledette dall'italiano per la sua natura, però se ci vogliono e sono contenute si possono anche accettare. Penso che sia sbagliato e che secondo me stiamo toccando veramente il fondo. C'è poco da dire. E mentre si discute del futuro delle tasche e della salute degli italiani, sui blog si rincorrono notizie vere e presunte. Fra questa è quella sulla tassa sui cani di razza, smentita dai media nazionali ma che ha fatto emergere un'altra mara verità. In Italia per pet food e prestazioni veterinarie si paga il 21% di IVA contro il solo 4% del resto d'Europa. E in un momento in cui il nostro paese si vanta di fare la lotta ai maltrattamenti e all'abbandono degli animali, tutto questo appare sempre più come un grande paradosso.